Inquadrami una manetta Ok, vai qui sulla bilancia Fai vedere che è vuota Ok Inquadrami all'istante Ok, inquadrami che non sono... Ok, mi inquadra lì Ok, ora fermati I dischi Ok, ora Cammini indietro continuando a incontrare questi dischi Occhio dietro Ok, continui a incontrare che sono gli stessi Ora ci penso io, inquadro Anzi, fai così Prendi i dischi e li porti vicino al bilanciere Grazie Grazie No, grazie 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 Grazie. Quando parti? Lo lasci andare così? Sì, continua a registrare. Sì, sì. Questo pesa. Questo pesa molto. Dai, concentrato. Sì, assendi. Sì. Dai, ce l'hai. Sì, bravo. Sì. 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 Un minuto. Perfetto. Avvisato? Sì. 30 secondi. 10. 4, 3, 2, 1. 1, go. 1, go. 1, go. 1, go. 1, go. 2, go. Stendi. 10 secondi. Stendi. 1, go. 1, go. 1, go. 1, go. 2, go. 2, go. 1, go. 2, go. 2, go. 1, go. 1, go.